Partono oggi i saldi nella nostra regione, Marina Dolci, quali sono le aspettative e le speranze dei commercianti? Intanto è una bella giornata, iniziamo con gli sconti, tutte le attività sono ben allestite, c'è buona scelta, è una data molto anticipata, quindi è uno sconto che noi vogliamo fare ai nostri cittadini e ai nostri clienti. Partono questi saldi, l'obiettivo è far sì che si possa fare qualche affare in più rispetto agli ultimi due anni che sono stati contrassegnati anche dalla pandemia. Sì, sicuramente ci aspettiamo un po' più di affluenza, capiamo anche che ci sono tante bollette, tante spese in più per le famiglie, però noi partecipiamo, con questi sconti sicuramente le vendite saranno accattivanti. Siamo a Pescara, siamo in pieno centro, ci sono tanti pescaresi pronti a fare acquisti ma anche tanti turisti, si rivede una città abbastanza piena? Sì, stiamo vedendo che ci sono dei turisti, i B&B e gli alberghi sono occupati, quindi sì, è una città bella. In più abbiamo la bandiera blu del mare e quindi sì, ci aspettiamo ottimi lavori. Lei prima parlava di questa data anticipata che è stata decisa qualche anno fa dopo il terremoto, però molti non sono d'accordo con la partenza dei saldi i primi giorni di luglio, qual è il suo pensiero? Sì, allora non siamo d'accordo, nel senso che la tempistica di vendita è troppo breve, come una famiglia anche le attività commerciali hanno tante spese da dover sostenere e quindi comunque noi ci auguriamo che questa data possa essere spostata un pochino più avanti, cioè tornare proprio a non dire sconti ma saldo e il saldo dovrebbe essere ad agosto. Vediamo, però poi le promozioni ci sono sempre per i nostri clienti, quindi non è un togliere l'offerta alla clientela, sicuramente ci sarà sempre uno sconto per i nostri clienti.